presentato il maxi progetto di riqualificazione per la stazione di pesaro nuova aggressione in carcere detenuto mette a suo quadro anche il pronto soccorso rapina al troni di via degli abeti arrivano le prime condanne donato alla città l'oscar dello scenografo e arredatore bruno cesari buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 25 maggio e questa è la prima edizione del nostro rossini news vi ricordo tra l'altro che le prossime repliche le troverete alle 20 e 40 e alle 23 e 30 questa sera partiamo parlando del grande progetto di riqualificazione per la stazione di pesaro che è stato presentato questa mattina durante la firma dell'accordo tra comune e rete ferroviaria italiana allora vediamo tutto in questo primo servizio è stato presentato oggi durante la firma del protocollo d'intesa tra comune di pesaro e rete ferroviaria italiana il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di pesaro tanti gli interventi previsti a partire dalla realizzazione di un nuovo fabbricato sul fronte sud che amplirà quindi i punti di accesso alla stazione verranno poi modernizzati gli spazi dedicati ai viaggiatori l'atrio d'ingresso le aree di attesa e gli spazi comuni proprio all'esterno dell'ingresso nord infatti aumenterà il perimetro destinato all'area pedonale che sarà accompagnata da una riorganizzazione dei percorsi ciclabili veicolari previsti anche nuovi parcheggi per auto moto e bici insieme al restyling per il sottopasso e per le pensiline diverse anche le idee riservate al piano superiore della stazione tra queste l'ipotesi di realizzare un ostello l'investimento complessivo è di 16 milioni di euro equamente suddiviso tra rete ferroviaria e comune di pesaro molto importante per tutta la provincia perché la stazione di pesaro è la stazione della provincia e oggi non è adeguata rispetto allo sviluppo che vogliamo dare al trasporto su ferro sempre più importante per il turismo e abbiamo proprio in questi giorni avuto la notizia dell'arrivo di italo e di altri fressa rossa quindi siamo molto contenti e al tempo stesso fondamentale per la riqualificazione di quell'area della città intorno alla quale il comune sta già investendo tante risorse l'area di via dell'acquedotto torna al parco miralfiori sotto passi del cavalcavia e questo intervento di ferrovie da completa l'opera sono 8 milioni di investimenti altri 8 milioni che arrivano a pesaro di rfi e siamo molto soddisfatti perché come avete visto anche dal rendering il progetto di riqualificazione completo radicale e permetterà alla stazione di essere non solo più bella e più attrattiva ma anche di avere molti più servizi e un'accessibilità migliore sia in auto sia in autobus e in bicicletta con altri mezzi sostenibili quindi siamo davvero molto soddisfatti tra gli obiettivi fondamentali del piano di rete ferrovia italiana quello di intervenire sulle stazioni a livello nazionale proprio per recuperare un rapporto con con i territori questo giova al servizio ferroviario innanzitutto perché è una stazione più accessibile con tutti i servizi integrati di mobilità urbana quindi con delle migliori connessioni sicuramente alimenta il ferro e quindi genera la possibilità per più persone di utilizzare il mezzotreno dall'altra parte una stazione ben integrata con la città è anche un luogo di riferimento più piacevole più sicuro dove possono essere allocate delle funzioni che siano anche di interesse territoriale per le persone che vivono il contesto della stazione quindi è un lavoro quello dell'integrazione che non può che farsi insieme motivo per cui alla base dello sviluppo progettuale ci sono accordi con gli enti come quello di oggi con la città di pesaro che mirano proprio a mettere intorno a un tavolo i soggetti che hanno evidentemente a vario titolo la voglia di realizzare degli obiettivi di integrazione ovviamente importante anche poi definire tempi e finanziamenti perché la concretezza del progetto si traduca in tempi ragionevoli rispetto appunto alle dichiarazioni che vengono fatte noi entro l'anno partiremo con la parte progettuale perché ovviamente ci sono delle tecnicali di natura procedurale che sono la disponibilità dei fondi che si aprono nel momento in cui si definisce l'accordo quindi l'obiettivo è quello di completare la progettazione per avviare i lavori il prossimo anno e quindi orizzonte 2023 l'intervento per quanto riguarda la parte di rete ferrovia italiana dovrebbe essere completato evidentemente c'è una corona di interventi intorno che riguarda le aree del comune che dovrà essere integrata anche dal punto di vista della programmazione temporale perché alcuni interventi della città sono propedeutici alla per esempio la riqualificazione del piazzale e indubbiamente attende una revisione della viabilità che è di competenza del comune quindi queste tempistiche si definiranno proprio nel corso dello sviluppo del progetto in primo piano questa sera anche la cronaca perché ieri nel carcere di villa fastigi si è verificata una nuova aggressione da parte di un detenuto ai danni degli agenti in servizio il soggetto di origine marocchina dopo essersi scagliato contro un sovrintendente all'interno della casa circondariale è stato sottoposto ad un accertamento sanitario obbligatorio presso l'ospedale Marche Nord al momento delle dimissioni l'uomo si è reso protagonista di un nuovo atto violento che lo ha portato ad aggredire gli agenti di scorta e a mettere a soquadro il pronto soccorso sul posto oltre due volanti di rinforzo mandate dal carcere è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia a denunciare l'ennesimo episodio criminoso ai danni del personale operante a villa fastigi sono stati sindacati di riferimento attraverso i rappresentanti dell'istituto pesarese continuiamo a parlare di cronaca perché arrivano le prime condanne per alcuni componenti della rete che nel novembre 2018 aveva organizzato la rapina al troni di via degli abeti allora vediamo tutti gli aggiornamenti in questo servizio di edoardo razzi condannati ieri dal tribunale di pesaro il basista il palo della tentata rapina e sparatoria avvenuta al troni di torraccia nel novembre 2018 il primo un uomo di 41 anni originario di bari ma residente a morciano è stato ritenuto colpevole con rito abbreviato e condannato a tre anni di carcere per essere stato la mente del colpo il secondo 50 anni sempre di bari ma con domicilio nel pesarese ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione per esser stato l'avvisatore assenti e non ritrovati per ora i tre esecutori materiali della rapina colpevoli di aver sparato quattro colpi di pistola nei confronti dell'addetto alla consegna in banca dell'incasso da 30 mila euro il piano risale al 26 novembre 2018 lunedì seguente al weekend del black friday quando verso mezzogiorno i tre banditi stavano aspettando su un'auto rubata il vigilante del troni con i soldi incassati nel momento in cui è salito sul furgoncino è stato circondato da due rapinatori uno dei quali ha sfondato con una mazza il finestrino del passeggero mentre l'altro li ha sparato per quattro volte senza colpirlo hanno cercato di prendere la borsa con il denaro afferrando però quella sbagliata era lo zaino privo di soldi del vigilante che seppur lievemente ferito è riuscito a salvarsi ed ora ci spostiamo a falconara ed esattamente all'aeroporto perché questa mattina intorno alle ore 9 si è verificato un incidente appunto che ha portato alla chiusura dello scalo un aereo della marina militare mentre stava iniziando a prendere velocità in pista avrebbe urtato contro uno stormo di volatili l'impatto ha ovviamente impedito il decollo del mezzo una cui gomma sarebbe scoppiata nel momento di frenata l'aereo è finito quindi di traverso sulla pista ma fortunatamente non si sono registrati danni o fuoriuscite di carburante così come nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita ed ora il consueto spazio dedicato ai dati del servizio sanità della regione marche riguardanti appunto il covid 19 nelle ultime 24 ore infatti sono stati testati 2946 tamponi 1349 nel percorso nuove diagnosi 1597 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 77 con 22 casi in provincia di pesaro urbino tre i decessi notificati ieri sera nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese ed ora il momento di aprire la consueta pagina dedicata alle vostre segnalazioni tra l'altro vi ricordiamo il numero per inviarci foto video messaggi al 370 366 72 10 questa mattina siamo stati in zona pentagono celletta per raccogliere le dichiarazioni di un residente della zona che da diversi anni denuncia la presenza di un pozzo che in diverse occasioni non viene correttamente chiuso una situazione che potrebbe dunque risultare anche molto pericolosa vediamo la pagina delle segnalazioni di rossini tv ci troviamo oggi nel quartiere pentagono celletta per denunciare una situazione che c'è stata resa nota dai residenti appunto del quartiere una problematica presente sul posto ormai da diversi anni e per la quale non sono ancora arrivati gli interventi richiesti alcuni residenti delle abitazioni situate in via arianni hanno infatti segnalato la presenza di un profondo pozzo nel tratto di area verde compresa tra i condomini e il camminamento pedonale di via lungogenica pozzo che in diverse occasioni per lo più a seguito di interventi di manutenzione del verde non viene correttamente richiuso diverse quindi le situazioni spiacevoli o di rischio che potrebbero verificarsi anche a causa della mancanza di protezioni o indicazioni che segnalino lo scavo sono 26 anni che noi abitiamo qui e sono 26 anni che c'è questa problematica qui l'impresa quando ha finito i lavori ha lasciato una pietra sopra un posto che è profondissimo no e ogni volta che adesso vengono ogni volta non sempre però molto molto spesso quando vengono a tagliare l'erba col trattore con la fresa ci battono e si apre abbiamo visto come è pericoloso io fino adesso ho sempre cercato di rimetterlo a posto però perché aspettavo sempre che il comune venisse qui a livellare il terreno e a mettere in sicurezza questa pietra perché è pericolosa qui ci passano pubblico suolo pubblico ci passano cani gente con i cani bambini i ragazzetti che vengono potersi anche con i giochi non si sa mai c'è la fermata del tram lì molti attraversano qui scendono e poi per andare nelle varie visazioni passano anche qui è pericoloso lì se adesso non è molto spostato però molte volte anche più più aperto e quindi la pericolosità aumenta qui dovrebbero mettere a posto il verde io aspettavo appunto che un giorno venissero a mettere a posto il verde e quindi mettessero in sicurezza quello lì ma non si vede nessuno sono 26 anni che siamo qui sono 26 anni che questo è così dopo qui ci vuole una una chiusura stabile bella più sicura perché ha capito fino adesso mi sono adoperato io ma perché mi sento responsabile ma sempre con la leva adesso l'età avanza come c'è una certa età il mal di schiena si può anche affermare che venissero loro qualcuno e mettesse a posto altra situazione che i residenti hanno voluto segnalare riguarda la collocazione la dimensione degli arbusti presenti nell'area verde il cui eventuale danneggiamento caduta che si potrebbe verificare per esempio a causa del maltempo potrebbe rappresentare una problematica anche per la circolazione di via lungogenica e per me sono pericolose perché non meno di 20 giorni fa nella rotatoria la ne caduta una fortunatamente dalla parte del parco interna io mi chiedo se cacca dalla parte esterna cosa succede no una queste quest'inverno c'era il coprifuoco di notte c'era stata la tempesta vento pioggia e una è cascata sulla strada e quelli che vengono a raccogliere la pianta perché poi il giorno dopo è venuto quelli di marchi multiservizi la squadra l'han tagliata e l'hanno portata via io dico la responsabilità di un capo squadra quando rientri alla base vuoi dire guardi che là in via lungogenica queste quelle piante ogni tanto ne casca una sarà meglio magari dargli una potata penso che sia un pericolo anche per la strada si è costituito oggi ad ancona il movimento civici marche movimento politico che fa riferimento all'omonimo gruppo consigliare di maggioranza guidato dal consigliere regionale giacomo rossi con la sua costituzione il movimento civici marche ha aperto ufficialmente anche la campagna adesioni che si chiuderà il 15 settembre e che porterà entro l'anno ad un congresso costitutivo di questo gruppo politico dopo l'applaudita conferenza spettacolo con maria chiara mazzi sulla musica nella divina commedia domani mercoledì 26 maggio alle ore 18 arriva la seconda tappa della rassegna a ragionar di dante l'appuntamento è nel verde degli orti giuli con lo scrittore critico letterario enrico capodaglio titolo dell'intervento lo sguardo francescano di dante gli animali nella divina commedia per il secondo anno consecutivo la tradizionale regata sulla rotta dei trabacoli da pesaro a pola salta a causa del covid 19 era già tutto pronto per questa trentaseiesima edizione organizzata dalla sezione pesarese della lega navale già slittata dal ponte del primo di maggio a quello del 2 giugno pur di salvarla ma l'evento purtroppo è stato sospeso sul filo di lana in quanto impossibilitati a far rispettare le norme covid 19 attualmente in vigore e queste immagini che vi mostriamo adesso sono delle immagini della signora guerrina tomassini e vogliamo augurare a lei veramente buon compleanno perché guardate che numero c'è scritto sulla torta ben 105 anni questo il traguardo della nostra fantastica telespettatrice che salutiamo tantissimo noi della redazione di rossini tv le facciamo tantissimi auguri di buon compleanno signora guerrina pensate che è nata nel 1916 e beh beata lei e complimenti per questo bel traguardo e grazie anche a tutta la famiglia che ci ha voluto che ha voluto condividere con noi questo importante momento e adesso invece cambiamo argomento e parliamo di centri estivi che iniziano ad aprirsi parliamo quindi di ripartenze perché sono tante le realtà pronte a raccogliere bambini e ragazzi e intrattenerli appunto nella stagione estiva con attività sportive e di gioco ne abbiamo parlato nel prossimo servizio con i referenti del comitato provinciale del csi protocolli regole e linee guida alla mano per garantire la sicurezza di bambini e ragazzi con l'avvio della stagione estiva scaldano i motori e si preparano alla ripartenza anche i centri estivi la sezione provinciale del centro sportivo italiano con sede a fano ha deciso a partire da quest'anno di estendere le proprie attività anche sul territorio pesarese dal prossimo 14 giugno infatti le attività del csi arriveranno alla scuola don milani nel quartiere di villa san martino quattro invece le sedi confermate a fano oltre agli educatori che saranno due per ogni gruppo composto dai 5 ai 7 bambini e ad una continua sanificazione degli impianti sarà inoltre presente la figura del covid manager responsabile di controllare che tutte le norme di sicurezza pianificate vengano rispettate quest'anno presenteremo una grande novità nei nostri centri estivi a pesaro dopo anni di grandi successi nel fanese in cui abbiamo avviato diversi centri siamo arrivati ad avere fino a un migliaio di bambini iscritti proviamo a presentare questo servizio anche nel luogo pesarese la giornata nei nostri centri sarà organizzata prettamente con attività sportive ma anche ricreative giochi d'acqua e molto altro la giornata partirà alle ore 8 fino alle ore 14 con la possibilità di rimanere a pranzo è stato donato a pesaro sua città natale l'oscar vinto nel 1988 dallo scenografo e arredatore bruno cesari per l'ultimo imperatore di bernardo bertolucci ieri il momento della consegna che vediamo appunto con queste interviste ai protagonisti il bruno cesare un grandissimo concittadino un pesarese che in realtà ha vissuto poi professionalmente a roma in giro per il mondo è nato ed è poi morto a pesaro nel 2004 una carriera straordinaria di arredatore scenografo arredatore anche al fianco di fellini scenografo con i più importanti registi del contemporaneo e del novecento fino al premio oscar vinto nell'88 con l'ultimo imperatore è un film che ha fatto la storia del cinema non solo italiano con bertolucci con bertolucci nel 2011 è stata intitolata la piazza proprio qui a fianco di piazzale matteotti dedicata appunto a bruno cesari a fianco della piazza lino micichè fondatore della mostra del nuovo cinema quindi un legame con la mostra che la vedova Laura Cureli anche lei donna di cinema segretaria di edizione di tanti film e di tanti registi ha pensato di donare definitivamente dopo il fatto dopo il dono fatto da cesari a lei ora diciamo avanti con l'età ha deciso di anticipare quello che avrebbe potuto essere nei prossimi anni del suo testamento donando questi riconoscimenti che sono appunto l'oscar ma anche il davidio donatello anche il cac d'oro vindi per l'ultimo imperatore così come il cac d'oro per le fatte ignoranti ha collaborato molto con ospite che sia cesari ma anche la stessa Laura Cureli e anche la nomination per il talento di mister Ripley e altri riconoscimenti e documenti che saranno anche importanti per l'archivio della mostra del cinema che è stato riconosciuto dal MIBAC proprio l'anno scorso come archivio di interesse nazionale diciamo e lo confermiamo anche con questa donazione. Un momento molto emozionante voglio ringraziare davvero la moglie di Bruno Cesari per questo grandissimo dono che fa la città lo esporremo l'oscar insieme al davidio donatello e gli altri premi li esporremo al teatro sperimentale che è un luogo storico per la nostra città ma è un luogo anche simbolo del cinema italiano perché lì è nata la mostra del cinema e non è un caso che Bruno Cesare abbia deciso a Bruno Cesare sia stato intitolato a una piazza qualche anno fa e credo che questo sia pesato anche nella decisione della moglie di fare questa donazione a Pesaro siamo davvero molto orgogliosi Pesaro è una città fortemente legata al cinema avere l'oscar diciamo i primi principali di uno dei più grandi sceneggiatori italiani scenografi italiani scusate è davvero un onore una grandissima responsabilità e quindi cercheremo di valorizzarla al meglio di far sì che possa diventare anche un momento di memoria di ricordo di questo grande artista e siamo arrivati alla fine di questo telegiornale ma prima vado ad annunciarvi quella che sarà la programmazione su Rossini tv di questa sera a partire dalle 21 e 15 dove l'istituto Benelli presenterà i suoi corsi serali l'istituto Benelli è stato tra i primi a credere nell'importanza e nella utilità dei corsi serali proprio per offrire anche a coloro che lavorano un'istruzione adeguata e quindi uno spazio molto interessante che vi consigliamo di non perdere subito dopo alle 21 e 30 una nuova puntata di Acome Angels il football americano i Ranocchi Angels di Pesaro che raccontano appunto le loro gesta mentre in seconda serata alle 22 e 15 spazio con la musica d'autore questa sera conosciamo Michele Panzieri e Topazio Perlini alle 22 e 15 e vi ricordiamo anche che tutti i mercoledì quindi non perdetevi la seconda puntata di domani sera domani mercoledì alle ore 21 e 15 qua la zampa questo nuovo format televisivo di Rossini tv dedicato agli amici animali con tante informazioni utili per voi e per i vostri amici pelosi e poi andiamo a ricordarvi anche di scaricare l'applicazione Rossini tv potete scaricarla gratuitamente su google play o sull'app store se volete vedere Rossini tv appunto anche quando siete fuori casa potete farlo potete vedere le notizie potete vedere la tv in diretta potete guardare inviare una segnalazione vedere anche tutto quello che facciamo molto facile molto comoda molto intuitiva scaricatela per essere sempre vicini a Rossini tv e allora come sempre vi ringrazio per averci seguito anche questa sera l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 20 in diretta con la nostra rassegna stampa buona serata